ben tornati in diretta con buongiorno weekend lo sapete è il momento del caffè quindi giusto un caffè con vediamo insieme il video iscriviti al canale l'intensità della meravigliosa caterina vertova buongiorno benvenuta buongiorno weekend buongiorno che meraviglia in compagnia di una meravigliosa batteria sul palco del teatro della monaca è già al lavoro è già al lavoro perché in effetti non si è mai fermata un attimo in questo periodo e adesso capiremo il perché caterina intanto benvenuta buongiorno weekend questo è lo spazio che chiamiamo giusto un caffè con e sarà proprio una chiacchierata di fronte ad un caffè vero fosse stata qui nei nostri studi le avremmo dato veramente un caffè un cornetto perché la prima domanda che faccio sempre agli ospiti è questa buongiorno caterina benvenuta buongiorno weekend e lei che caffè si sente un caffè amarissimo intensissimo potente in questo momento anche grazie al lavoro che sto facendo con queste donne fantastiche con cui sto lavorando e quindi come loro mi sento molto forte ma semplicemente forte non è che ci siano delle cose che ci fanno sentire forti è così semplicemente forte esserci ed essere vivere è già di per sé una potenza quindi probabilmente proprio questa la forza della vita che ci 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 regala questo a questa energia sì di decidere che la vita è fatta anche di cose non belle tra cui la malattia e le sofferenze giustizie tante cose che viviamo che però fanno esattamente parte delle belle anzi se fosse sempre bello forse ci siamo saremmo sarebbe insopportabile certo ci sono alcune cose brutte che sono particolarmente gravi e pesanti da affrontare però è anche vero che si possono quello che ho scoperto frequentando queste donne con le quali lavoro si possono scoprire delle cose straordinarie in momenti difficili come la malattia per esempio stiamo parlando del progetto la casa di ciascuna abbiamo anche un video rispetto a questo progetto perché è importantissimo quindi vediamolo insieme così capiamo un pochino meglio di che cosa si tratta volentieri grazie deve prendere forma in modo definitivo la dignità dell'essere donna questo progetto parte proprio dalla convinzione che il teatro possiede proprio una valenza di cura diciamo che a me ha dato modo di vivere questi sei mesi di vita per me sono un regalo per vita più di mille psicologi e psichiatri l'aiuto è tanto sotto tantissimi punti di vista sia internamente per quello che mi riguarda più intimamente sia nelle relazioni con le altre donne ognuna delle donne che parteciperà sarà accolta potrà portare la sua cultura i suoi racconti le sue esperienze senza paura di sentirsi diversa e non accettata è una grande soddisfazione fare il mio lavoro con queste donne tirate fuori proprio le parole che meraviglia complimenti perché già soltanto da queste poche immagini possiamo capire la potenza di questo progetto Caterina perché la direttrice artistica di questo progetto la casa di ciascuna al teatro Torbella Monaca un teatro di servizio di servizio perché è un teatro di servizio e soprattutto perché è casa per queste donne il teatro soprattutto negli ultimi tempi si è un po' chiuso nella sua bellezza nella sua straordinarietà perché è comunque un evento sempre il fatto che ci sia il teatro il fatto che una comunità di esseri umani si stringa casualmente intorno a un avvenimento come quello del teatro però i teatri sono un po' delle roccaforti chiuse in se stesse con intorno al loro piccolo mondo che funziona però un po' chiuso la necessità è proprio quella di fare un teatro come del resto ci ricordano le sue origini insomma quello di essere aperto di accogliere di creare una comunità sempre più ampia e aperta al territorio alle persone che lì davanti ci passano e non sanno quello che avviene poi la sera dalle 9 alle 23 insomma perché i teatri sono aperti spesso solo in quegli orari fare in modo che proprio il teatro sia un po' al servizio delle persone che vivono intorno al teatro la casa è perché è straordinario ma il teatro diventa una casa ma noi lo viviamo andando in tournée costruendo attraverso le prove sono dei momenti bellissimi, durissimi in cui improvvisamente avviene il fatto artistico e poi per tempo fai fatica e non succede niente e dici aiuto, non ce la farò mai insomma e c'è come dire scontro o incontro con gli altri con il regista, con lo scenografo, con la... questo è quello che succede succede che c'è come dire una famiglia che si incontra lì intorno ecco direi che avevo voglia che donne specialmente donne cosiddette fragili che poi come ho detto ultimamente spesso in realtà sono potentissime perché hanno già una consapevolezza dell'esistere molto alta per cui sono donne piuttosto eccezionali però insomma stanno vivendo un momento duro della vita e quindi sapere che questa porta così potente come quella di un teatro così fascinosa, così piena di storia di emozioni, di cose vissute si apra per loro questo può essere casa in effetti il teatro per chi non lo comprende che non lo ha mai provato non si dà spesso al teatro il potere salvifico in realtà chi appena mette piede sulle tavole di un palcoscenico può sentire l'odore della platea e toccare le tende polverose del teatro insomma capisce che lì c'è un potere salvifico quanto mai per queste donne cioè queste 28 donne che si stanno regalando un momento di vita intensa e forse, questo lo chiedo a lei forse possono dire con parole di altre qualcosa che stanno provando dentro esatto è un po' così è un po' così è un po' come dici il teatro ha questa funzione questa cosa si sa il teatro si fa nelle carceri si fa in tante situazioni difficili devo dire che invece di secondo me è molto importante che invece di andare noi siano loro a venire e a lavorare nel senso che poi noi faremo anche questa messa in spazio questa messa in scena questa prova aperta il 26 marzo ma insomma la cosa importante è tutto il percorso vissuto sono le torte salate, dolci il fatto di condividere una tisana insieme sono i momenti che abbiamo vissuto ecco insieme che sono momenti quotidiani queste donne si sono riunite in teatro da novembre tre volte alla settimana per torre al giorno una cosa incredibile perché l'hanno preso proprio come un impegno un impegno vitale ecco in effetti spieghiamo ai telespettatori questo è un progetto appunto e ha visto la formazione di un gruppo di queste 28 donne che hanno vissuto delle fragilità ma che appunto vogliono mettere in scena se stesse e al quale è stata data la possibilità di avere una formazione e che formazione proprio professionale quasi a livello teatrale quindi un percorso un training che poi porterà ad una restituzione che vuole essere semplicemente il bello di condividere il progetto insieme alla comunità non è mai un saggio non è mai uno spettacolo giusto Caterina è proprio il bello del teatro di condivisione credo guarda ti dirò di più una che vuole sempre essere pronta essere come si deve essere ma in realtà non sappiamo noi ci metteremo lì e vediamo quello che succede anche ieri sono successe delle cose straordinarie però non è detto che persone che non sono del mestiere siano in grado di riprodurre quello che in tutto questo periodo abbiamo visto naturalmente e poi ti dirò che la cosa importante è che ci siano degli esseri umani che hanno vinto un pezzettino in più e non delle attrici naturalmente assolutamente questo è molto importante e questo credo faccia la differenza e credo anche che si veda poi sul palco perché spesso e questo te lo chiedo l'abitudine all'attore alla finzione dell'attore purtroppo è sempre più difficile trovare attori che interpretino veramente ma fanno quel ruolo non lo interpretano non lo sono qui invece non c'è questa costruzione non c'è questa questa maschera non c'è questa maschera c'è uno studio però uno studio che hanno fatto anche con una maestra di voce con una maestra di training teatrale con una maestra di movimento insomma cioè con persone ad altissimo livello e abbiamo fatto tutte insieme c'è uno studio uno studio molto forte certo si parte da loro ma poi si arriva a studiare attraverso le parole anche di autori e grandi personaggi ci occupiamo di regine sono sono regine di varie epoche riscritte in varie epoche da autori diversi e sulle quali loro si cimentano cimentano nel senso che prendono quel materiale e lo lo traducono sotto la nostra supervisione ecco le difficoltà sono state tantissime a costruire il gruppo le cose non sono mai facili e poi devo dire che entrare così nel merito di emozioni di pensieri di un certo tipo smuove anche molto per cui ci sono dei momenti bellissimi di grande piacere dei momenti anche di dolore dicevi una cosa che mi colpisce molto questa cosa dell'interpretazione è una cosa a cui sto pensando tantissimo perché specialmente in Italia gli attori le attrici noi io sono parte di questo siamo sempre un po' uguali a noi stessi non abbiamo proprio io non cioè so ci sono per cui questa cosa dell'interpretazione è una cosa che bisognerebbe approfondire lo credo davvero perché anche proprio lei è un esempio perché soprattutto nella serialità televisiva impone poi a un certo punto l'essere etichettate ad un'immagine ad un ruolo e quindi quello ti viene richiesto e nel tempo si fa fatica ma proprio fatica a scardinare ad emergere con la propria personalità rispetto ai ruoli che si chiedono di interpretare invece il teatro qui permette di fare quello che si vuole lei sicuramente ha trovato da sempre dalla sua formazione meravigliosa ma ha sempre trovato spazio di essere di vivere con il teatro in tutta la sua meravigliosa personalità è vero è vero il teatro dà molta più questa opportunità rispetto invece alla televisione che ti etichetta e poi la televisione non tutta la televisione perché c'è una televisione internazionale che non fa questo siamo noi che cerchiamo specialmente sul femminile ma no ma anche sul maschile tendiamo a si a etichettare a standardizzare siamo un po' antichi in questo però insomma in realtà adesso io trovo che la qualità delle cose sia che si girano sia teatrali sia medio alta non tutta ma alcune cose sono a un certo livello per cui andiamo avanti bisognerebbe certo la cosa che devo dire a favore artisti registi attori che si occupano fanno questo mestiere è che non siamo protetti noi cioè noi possiamo lavorare diventare anche riconosciuti eccetera e poi dopo improvvisamente è successo la Magnani figurati se non succede a uno di noi cioè improvvisamente dici dov'è è là nella povertà che fa fatica a sopravvivere e in Francia per esempio non è così in Germania non è così assolutamente cioè gli attori quando arrivano a un certo punto poi vengono anche protetti vengono anche sostenuti allora che cosa succede che in quella cosa di sostegno in realtà succede che uno ha anche il tempo di staccare approfondire capire quali sono le diversità che sono in un momento precedente e progredire quindi non essere obbligato un po' a rivisitare sempre il se stesso riconosciuto no? Meraviglioso è necessario proteggere anche gli attori anche la categoria degli attori Caterina in definitiva per ritornare e concludere il discorso sulla casa di ciascuna che cosa porterà lei via da queste donne cosa catturerà con gli occhi e con l'anima rispetto a queste donne il fatto che la vita la vita proprio in sé ha una forza straordinaria che non è fatta per forza di trallallero trallallà e di cose piacevoli la vita è la vita con tutta questa grande potenzialità che viene fuori anche dalle cose così meno belle per cui riconoscere riconoscere una forza che la vita ha nella sua natura è vero è vero che è la bellezza così scusami se dico che forse riconoscendo questa forza finiamo per cercare meno all'esterno avere meno bisogno di perché ci riferiamo di più a questa grande forza non voglio usare la parola energia perché si strausa potenzialità che abbiamo dentro già perché siamo vivi e prenderci cura di questo è come il seme di una pianta in sé ha tutta la forza per poter crescere germogliare fare i radici e diventare quello che siamo quindi grazie davvero Caterina ci scrivono da Trieste i nostri telespettatori che la ringraziano perché un grazie a queste grandi attrici che si mettono in gioco per dar sempre più vita a quel mondo dello spettacolo di cui ognuno di noi sogna di poter cavalcare un giorno anche per poco quindi grazie davvero Caterina è stato un tanto un piacere per me averla qui in collegamento con Buongiorno Weekend e grazie per il lavoro della Casa di Ciascuna con questo progetto meraviglioso grazie davvero tanto a Caterina Vertova grazie buon lavoro ciao grazie 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 adesso abbiamo terminato la puntata di Buongiorno Weekend grazie a tutti voi che avete mandato i vostri messaggi vi leggo tutti quanti quindi grazie davvero e ci vediamo ovviamente domani l'appuntamento rimane alle 9 puntualissime perché ritorna Buongiorno Weekend io ringrazio anche Daniele Petrosemolo alla regia Luca Polelio in assistenza e Beatrice Mazzoni per l'aiuto grazie a tutti voi buon sabato divertitevi e poi mi raccomando puntate la sveglia perché domani ritorna alle 9 Buongiorno Weekend ciao ciao Grazie a tutti.